Esperimento numero uno. Effetto del fischietto palato sui gabbiani triestini. Esperimento numero due. Esperimento numero due. Esperimento numero due. I piccioni non sono sordi. Esperimento numero due. Esperimento numero due. Esperimento numero due. Esperimento numero due. Alcuni piccioni triestini sono sordi. Esperimento numero due. Questi due sono sordi. Maุ bunny numero due. Sido di un foglio. Oh. Esperimento numero due.